ciao allora oggi vi mostro gli acquisti dell'ultimo periodo che ho fatto su wish e visto che ho un leggero problema con wish perché prenderei tutto prenderei davvero tutto quindi mi sono data un limite e quindi prendiamo solo cose utili e dico io come non può essere utile un sottotazza un euro questo è un sottotazza a forma di gattino il pacco oltretutto ne aveva dentro due e uno l'ho data mia mamma è bellino quello può è fatto in un silicone che sembra che sia attacca quindi s'attacca anche alle piastrelle oppure lo mettete sul tavolo e non scivola quindi la tazza è bella ferma e io che lavoro al computer sempre bevendo le tisane un sottotazza a gattino era bello e inutile dovevo prenderlo a questo di questo è utile e quindi andava bene sempre per le tisane ed è sempre utile un con l'usb questo tiene in caldo le tazze o i bicchieri quello che volete lo attaccate all'usb del computer e oltretutto il cavo è bello lungo quindi perché liquidi e computer non vanno d'accordo quindi il cavo è bello lungo ve lo tenete lontano e comunque lo tiene in caldo perché ha una resistenza dentro ed è bellino anche se scalda tanto non va mai a scottare quindi non va a bruciare il tavolo e soprattutto non scotta a contatto con le mani quindi altra cosa importante un euro anche questo ed è carinissimo e non potevo non prenderlo giusto era utile altra cosa estremamente utile e questo sì sono questi che gli ho dispersi comunque sono questi gancini che servono fatti così in silicone che hanno alla fine la calamita e servono per agganciare i cavi senza rovinare opposti questi gancini da rotolare aspettate ecco qua ne ho uno vedete questo ad esempio tiene uniti i cavi ed è quelle calamite le ho rotate intorno e non va a rompere i cavi quindi è una cosa intelligente e oltretutto sono davvero comodi e inutile questi qua sono comodissimi ho visto dei tutorial in giro dove con i magneti perché alla fine sono due piccoli magneti cini proprio lo fanno con il silico con la colla a caldo sono curiosa di provarci con dei magnetini magari lo facciamo assieme ditemi se è una cosa che vi interessa e comunque al posto di dei soliti gancini che non troverò mai quelli soliti e in metallo che si arrotolano per chiudere i cavi questi non vanno a rovinarlo quindi davvero una cosa utile poi non scivolano quindi cavi sono belli fermi utili davvero utili altra cosa super utile sono questi pannetti carini piccini grandi così più questi sono pulisci occhiali pulisci schermo pulisci quello che vuoi perché comunque sono in microfibra e quindi puliscono bene solo che il pacco era da 50 quindi sono sono un po un po poi ci sono in giallo sono sempre un po e poi ci sono in giallo fluo verde fluo insomma direi che questi qua li metto in un po in giro per casa ovunque no il pacco era 50 costava un euro quindi va benissimo diciamo che mi servivano alcuni e un euro alla fine invece di lavarli lo butti va benissimo sono anche carini colori e quindi perché no ultima cosa ma non per ultima sì lo so ridarete che cosa è questo allora questo che oltretutto all'anti scivolo quindi va messo così è un piano per il frigo in modo da non andare ad appoggiare le cose direttamente sul piano del frigo ma andaci appoggiare questo quindi un copri un telo copri piano per il frigo è molto più e genico effettivamente perché invece di pulire tutte le volte il frigo dove spostare tutte le cose togliamo il panno togliamo questo a plastica alla fine che comunque all'anti scivolo perché è tutta dentellata vedete quindi la roba non scappa e lui sta fermo si pulisce tranquillamente sotto l'acqua si pulisce con una spugnetta quindi la trovo anche molto più comoda perché ho il frigo non so se è fatto così anche il vostro comunque che non è pari ma a tutte delle come si chiamano corri scorri delle canalette ecco delle piccole canalette all'interno penso che sia fatto perché così se e se si forma del ghiaccio e non si forma perché l'acqua scorre non ho capito non ho capito comunque alle canalette che si sporcano cavolo da pulire diventi matta perché diventerci proprio intorno tutta questa qui la pianti sotto la togli la pulisci quindi perfetto erano acquisti utili non potete dire no fatemi sapere se l'ho tenuto compagnia non si può non non ridere o dire a questa è matta direttamente comunque sia se quelle quali questi prodotti mi piace di più se volete che proviamo stima a fare questi gancetti non so con la colla caldo o con silicone cosa dite che meglio anche se ho visto che in tutorial che era con la colla caldo quindi proveremo con la colla caldo se mi può interessare se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico queste deliri alla prossima ciao